Io penso che in un gruppo debbano esistere delle regole, noi siamo un gruppo del Partito Democratico e la regola democratica conosciuta, l'unica perlomeno da me conosciuta sinora, è la regola che la linea viene data dalla maggioranza. Signor Teresio, sotto quegli emendamenti c'erano più di 30 firme, lei ti ritiene che oggi alla luce del voto in direzione una parte di quel dissenso che si era manifestato si è rientrato? Io non uso mai la parola dissenso a questo proposito, sono delle firme messe a degli emendamenti, quindi indicano la condivisione di emendamenti e finché le firme ci sono vuol dire che l'emendamento è condiviso, quando dovessero essere eventualmente ritirate vorrà dire che qualcuno ha cambiato. Vuol dire che oggi i numeri per far passare il Giacomo non ci sono? I sette emendamenti della minoranza PD a questo punto saranno ritirati alla luce della direzione di ieri? No, perché se lei vede l'ordine del giorno che poi è uscito dalla direzione non tocca gli argomenti di merito che riguardano i sette emendamenti. Sono il tema del dimensionamento, sono il tema dei voucher che non vanno estesi, il tema del controllo a distanza che si ha sugli impianti e non sulle persone. Quindi questa è la posizione che naturalmente può cambiare nel caso in cui ci saranno, come ci auspichiamo, da parte del partito ma anche del governo, ulteriori punti di incontro e di contatto, come ad esempio è avvenuto con l'articolo 18. Guardate, noi guardiamo con favore sul tema dell'articolo 18 al risultato della direzione. Vuol dire che l'emendamento sull'articolo 18 invece cade? Cioè vi ritenete soddisfatti su quello? Guardi, l'articolo il merito dell'emendamento parla solo e soltanto del fatto che esso, l'articolo 18, per i nuovi assunti possa entrare in vigore dopo tre anni. Noi siamo pienamente, pienamente diciamo favorevoli a discutere su questi aspetti tecnici, che siano tre anni, quattro, cinque, ci convince la proposta Boeri Garibaldi in merito. Noi abbiamo detto che ci sembra sbagliato che su uno stesso tavolo di lavoro possano esserci due lavoratori con una stessa tipologia di contratto, cioè un contratto a tempo indeterminato, uno che ha delle tutele e l'altro che non le ha. Ma quelle firme oggi sugli emendamenti ci sono ancora tutte o qualcuno dopo la direzione di ieri si è spaventato? Io, guardi, a quanto mi risulta sono rimaste. Noi siamo soddisfatti di ciò che è stato deciso dalla direzione del PD sul tema dell'articolo 18, che lo estende e lo include anche, diciamo, al tema dei licenziamenti disciplinari. Riteniamo che sia il risultato del nostro impegno di questi giorni.